molto molto interessante il primo comune in italia ad opporsi come dire per presentarmi al pubblico è il meccanismo del gregge diciamola tutta questo personaggio ha fatto i battaglioni neonazisti e quelle scintille di verità prima o poi appiccheranno un incendio nella consapevolezza attraverso l'obbligo farmacologico fatto uno strumento di governo militare la posizione chiarissima noi pensiamo che l'obbligo vaccinale sia incostituzionale immorale grazie a tutti grazie a tutti